Sono passati quasi dieci anni da quel famoso scandalo hollywoodiano che ancora nessuno dimentica. Era il 2005, Brad Pitt, uno degli uomini più desiderati del mondo, tradiva la moglie Jennifer Aniston, anche lei star amatissima della serie TV Friends, con la conturbante Angelina Jolie, conosciuta sul set del film Mr. e Mrs. Smith. Gli anni sono passati, ma quella ferita è stata lenta a rimarginarsi. La Jolie è stata a lungo la rovina famiglie di Hollywood, la Aniston quella scartata, anche a causa di ingenerosi paragoni fra la sua bellezza e quella di Angelina. Ora, per la prima volta, Jennifer parla del suo matrimonio finito male. Le persone fanno cose imperdonabili, ma devi riuscire a lasciarle andare, ha dichiarato al magazine Harper's Bazaar. Devi dirti, va bene così, siamo tutti esseri umani, facciamo degli errori. Portare rancore è come ingerire del veleno per topi e aspettare che il ratto muoia. Dunque, Jennifer Aniston sta finalmente bene, è lei stessa che ci scherza su. In conclusione dell'intervista, oh, grazie al cielo, sto finalmente bene?